numana blu un'eccellenza nella costa del conero per una clientela esigente che cerca natura gastronomia e sport ad alto livello immerso nella bellezza mozzafiato della costa del conero il numana blu è un villaggio che si distingue per la sua dedizione nel fornire servizi di alta qualità e sistemazioni impeccabili quei visitatori possono godere di un'esperienza naturistica unica abbinata a una gastronomia raffinata relax totale comfort e un'ampia gamma di sport i corsi di padel basket volley e calcio sono famosi in tutto il territorio grazie alla presenza di importanti istruttori e atleti di fama nazionale uno di questi è odo acre chierico un eccellente professionista proveniente dalla roma di lidl che ha scelto di portare tutta la sua passione e conoscenza nel formare i giovani sportivi del numana blu mi hanno chiamato per venire ad assistere diciamo i ragazzini che amano il calcio che hanno la nostra stessa passione in questo posto è meraviglioso ma è qualcosa di più mi ha lasciato veramente sorpreso sono sorpreso dalla dall'organizzazione è vero che sapevo benissimo che nelle marche sulla triatico anche in emilia romagna c'è un'organizzazione meravigliosa ma non pensavo mai un posto così organizzato un posto così bello dove tutti i ragazzi in questo momento noi siamo sul campo di calcetto e i ragazzini giocano a calcio ma al campo di là giocano a pad al campo di là pallavolo al campo di là il basket quindi un posto dove veramente fare una vacanza veramente completa perché i bambini e i genitori si riposano e i bambini sono sempre impegnati c'è un teatro giochi meravigliosi biciclette insomma una cosa dove veramente c'è tutto dodo chierico ci ha fatto fare un viaggio nella memoria dei suoi anni alla roma quelli col barone lidon in panchina all'inizio degli anni 80 del secolo scorso e lì non era un allenatore lì non era un maestro i maestri non ci sono più maestro significa quello che ti insegna veramente sia la vita che il calcio anche se dobbiamo dire che il calcio è cambiato tantissimo sotto questo aspetto è migliorato perché gli allenatori io ho avuto un altro maestro all'inter tu hai parlato dell'inter l'altro maestro era berzellini ma ne ho avuti tanti noi quando siamo stati poi alla roma prima parlavamo di lidon ma quella era diciamo prima c'erano più famiglie sembravano famiglie le squadre di calcio no rossi aveva la famiglia dell'asconi ancora etani aveva io avuto anche ancora etani come presidente e sono mi sono consagrato giocatore diciamo giocando quell'anno in serie b contro il col pisa e poi dopo da lì mi ha comprato la roma quindi per me anche il pisa una grande una grande città un grande ricordo però prima probabilmente oggi sono multinazionali no saliamo americani ci sono squadre da 30 giocatori e prima eravamo 16 giocatori 18 insomma e quindi era credo che fosse tutto più più facile anche perché eravamo tutti italiani bene o male numana blu è il luogo ideale per coloro che desiderano unire il piacere della natura alla buona cucina al relax al comfort e allo sport di alto livello un'esperienza che soddisferà anche i clienti più esigenti offrendo loro tutto ciò di cui hanno bisogno per una vacanza indimenticabile dimenticabile